Federico Salvatore, Carlo Bucci Rosso, Alessandro Benvenuti, Lillo e Greg, Peppe Iodice, Lello Arena, Gaia De Laurentiis, Nino D'Angelo. Sono solo alcuni dei grandi nomi che animeranno la stagione 2016-2017 del Teatro Cilea. Stamane la presentazione del cartellone sul palcoscenico del Teatro Vomerese, una stagione che vedrà anche tanti fuori abbonamento di qualità, dal concerto di Edoardo De Crescenzo alla magia dei comics, per passare alla voce di Valentina Stella e alla simpatia di Leonardo Pieraccioni. Una stagione suddivisa in due abbonamenti da 7 e 13 spettacoli, con prezzi concorrenziali e agevolazione per studenti e ragazzi, con prezzi non superiori a 15 euro il biglietto. Tutte le novità sono state illustrate dal direttore artistico Biagio Izzo che ai nostri microfoni ha sottolineato. di aver fatto un buon cartellone grazie anche ai suggerimenti degli abbonati, perché durante l'arco di questa stagione abbiamo dato la possibilità agli abbonati di darci qualche indizio, qualche idea e sono state tantissime. Nel mio piccolo ho cercato di accontentare un po' tutti, quindi una stagione che varia dall'operetta alla come di spessore, a quella divertente, alla musica di alto livello con Edoardo De Crescenzo che mi ha dato la gioia e l'onore di venire al Fiatro Cilea con dei music, con spettacoli di magia.